Anticipazioni Beautiful, trama puntate, martedì 11 gennaio 2022. Steffi conferma a Zende che è improbabile che Liam torni a fidarsi di Thomas. Liam e della Hope for the Future. Lo Spencer vorrebbe il ragazzo fuori dal team ma per la Logan non c'è nulla di cui allarmarsi. Nel suo appartamento il Forrester è scocciato, il manichino non solo parla esattamente come la vera Hope ma è anche in grado di muoversi. Liam intanto raggiunge casa di Steffi per un impegno con Kelly. La Logan quando lo scopre non sembra affatto contrariata e accetta più tardi un invito a cena di Thomas. Porterà anche il piccolo Douglas. Zende alla Forrester Creation entra sempre più in sintonia con Paris. Hope e Douglas intanto arrivano a casa di Thomas. Il manichino viene opportunamente nascosto in ripostiglio. D'un tratto prende vita e incita il figlio di Ridge a non perdere tempo e a baciare la sua amata. Ciao! 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 Grazie.